Hi everyone e ben trovati! Oggi vi propongo la prima parte di un tutorial intitolato come sventrare un Copic. Innanzitutto cominciamo a dire cos'è un Copic. Un Copic è un pennarello a base alcolica. Non è nocivo ma non per questo può essere considerato commestibile. La particolarità dei pennarelli Copic, vado a prendervi la carta così vi mostro, la loro particolarità, dicevo, è che essendo pennarelli a base alcolica il loro tratto non è per nulla paragonabile ai normali pennarelli che noi siamo abituati ad usare. Perché se noi passiamo col Copic sulla carta il tratto, una volta asciutto, risulterà essere omogeneo anche se ci facciamo più passate. Ovviamente se facciamo più passate il tratto risulterà omogeneo ma il colore diverrà più scuro. Oltre ad una campitura omogenea, i Copic sono l'ideale anche per eseguire ottime sfumature. L'importante è munirsi di due o più colori uguali ma di gradazioni diverse. Vediamo come quali. come in questo caso se noi andiamo a passare più volte i due colori otterremo che si mischieranno tra di loro e conseguentemente una sfumatura molto graziosa. Poi ovviamente a seconda dell'esperienza di voi disegnatori o comunque a seconda dell'esperienza che un disegnatore possiede si ottengono effetti più o meno sorprendenti. Bene e adesso che abbiamo spiegato cos'è un Copic diciamo il perché lo si deve sventrare. Sostanzialmente il mio perché perché di fatto si tratta di un mio perché risiede nel fatto che ho molti penarelli sempre a base alcolica che però non dispongono della punta a pennello cosa assai vitale per la sottoscritta. E conseguentemente ho pensato al posto che ricomprarli una volta finiti Copic e spendere circa 5 euro di pennarello perché non riutilizzare altri contenitori dentro il quale magari non scorre sangue di Copic ma di touch di qualsiasi altra marca che non sia Copic e riutilizzarli facendogli una trasfusione trasformandoli in pennarello di Copic o più semplicemente pulendoli e riutilizzandoli al posto con al posto del loro inchiostro originario quello dei Copic. Come potrete vedere dispongo di una vasta gamma di touch. Touch è un'altra marca non è Copic e è conseguentemente anche il loro inchiostro diverso. Tuttavia ambedue i pennarelli dispongono della punta a pennello e quindi ho pensato magari un giorno quando finirò i touch potrò riutilizzarne il contenitore con inchiostro Copic perché di fatto l'inchiostro cambierà ma la punta è sempre quella e il risparmio è anche più tangibile voglio dire. Ed è per questo che ho cominciato a fare vari esperimenti sui pennarelli che mi hanno portato alle conclusioni che ora andrò ad illustrarvi. Bene, cominciamo anche subito! Esperti mi suggerirono che ricaricare un pennarello è cosa assai facile. Non lo metto in discussione nel senso che basterebbe togliere la punta, mettere all'interno qualche goccia di inchiostro, richiudere e il pennarello ovviamente in questo modo dovrebbe tornare a funzionare. Qual è il problema? io provai a fare così, a mettere qualche goccia, togli punta, metti goccia e il pennello rifunziona. No, il pennello non rifunziona perché, e lo scoprì tramite i miei sperimenti, cosa succede? Dentro ai Copic c'è una spugna e questa spugna assorbe l'inchiostro come giustamente deve essere nel senso è sul lavoro. Cosa succede però? Noi mettiamo l'inchiostro dalla parte della punta a scalpello Mettimi a fuoco! Dalla parte della punta a scalpello Ora che l'inchiostro arriva alla punta a pennello non so nei vostri pennarelli ma nei miei, fa in tempo a scaricarsi Quindi, cosa ho appurato? Ho appurato che è molto più facile fare così Recuperare la spugnetta di cui vi parlavo prendere l'inchiostro e metterlo direttamente nella spugnetta o ancora più facilmente prendere il pennarello prendere il pennarello sventrarlo dalla punta a pennello ovviamente perché è quella che noi di fatto vogliamo ricaricare Ovviamente questo lavoro è molto, come dire, casalingo, artigianale I vostri pennarelli, come vedete, avranno graffi e quant'altro addosso solo che essendo io una personcina alquanto alternativa e che soprattutto non sopporta l'idea di farsi mettere dei piedi in testa dei pennarelli che saranno anche belli e fighettini ma non perché sono belli e fighettini devono farsi desiderare devono essere così costosi ho deciso di torturarli un po' per ripicca ecco fatto dicevo, uno o mette direttamente l'inchiostro dentro alla spugnetta oppure direttamente dentro la punta qui, se guardate c'è una parte della punta che adesso vi farò vedere meglio uno bagna la punta con l'inchiostro da questa parte finché e lo si nota perché il colore comunque avanza finché il colore non arriva alla punta vera e propria in questo modo diciamo che è sicuro che l'inchiostro sia arrivato alla nostra punta voglio dire adesso la rimetto un attimo a posto non fate caso ai miei accenti dopo il corso di teatro è normale parlare con più accenti contemporaneamente che non è mente ma è mente non vorrei spingerla troppo forte ecco fatto poi l'inchiostro si potrebbe mettere anche qui qualche goccia così non appena quello sulla punta si esaurisce avrete a disposizione quello che avete messo avrete messo bla 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 io non dico bla 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 nel frattempo nella spugnetta ecco qua ok e per questa prima parte è tutto gente spero che i miei metodi alquanto rudimentali possano essere stati di ispirazione anche minima va bene al prossimo video ciao 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 ciao